Ehi! Cerchi una connessione internet stabile, performante ed eco-sostenibile? Aruba ti offre solo vera fibra ottica, la tecnologia del futuro, in grado di rispondere alle tue esigenze di connettività di oggi e dei prossimi anni. Una infrastruttura FTTH, Fiber to the Home, è una rete interamente realizzata da cavi in fibra ottica, a garanzia di incomparabile velocità e stabilità nella trasmissione dei dati. Infatti, le prestazioni di una rete in fibra sono molto maggiori rispetto a quelle delle altre tipologie di connessione, come FTTC e ADSL. che oltre ad essere meno performanti, sono realizzate con parti in rame e inquinano molto di più. Ecco perché la fibra è una scelta green. I cavi di una rete FTTH sono realizzati prevalentemente in silicio, uno degli elementi più abbondanti sulla crosta terrestre. Questo materiale è molto più eco-sostenibile rispetto al rame, la cui estrazione, lavorazione e smaltimento hanno un impatto ambientale altissimo, per non parlare dei costi di installazione e manutenzione delle reti che lo utilizzano. Grazie alla fibra ottica puoi ridurre al minimo le emissioni inquinanti ottenendo il massimo delle prestazioni nella connessione. Potrai utilizzare senza interruzione e con più dispositivi collegati contemporaneamente tutti i servizi digitali di ultima generazione, come lo streaming, il gaming online e le videoconferenze. Cosa aspetti a scoprire se il tuo indirizzo è già coperto da Fibra di Aruba? Vai su fibra.aruba.it e verifica la copertura. Fibra.it e verifica la copertura.it 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 e verifica la copertura.it